Ok, signor Bento! Ora! Sai, sono andata a trovare il mio vecchio amico, signor Bento, e così gli ho piaciuto di darci una sciugata! Potrebbe funzionare, Yu! Oh no! Ok, signor Bento, basta così! Sì, non mi sente male! Sì, mi prego! Devo imparare a suonare il trombone come si deve! Mi dispiace, Lino! Non preoccuparti, sole! Nessuno sa davvero come si suona! Non fare così, non buttarti giù! Dobbiamo ancora chiedere al signor Bento e... Ecco il signor Bento! Eccolo lì! Veloci! Veloci, veloci, veloci! Signor Bento! Fermo, ti aspetta un attimo! Buongiorno, ragazzi! Che succede? Potresti insegnare a Nina come si suona il trombone? È uno strumento a fiato, dico bene! Oh, davvero molto interessante! Anche io voglio riuscire a suonarlo così! Beh, posso insegnarti! Soffierai forte come il vento, ma non sarà facile! Non c'è problema, accetto la sfida! E io darò una mano! Ehi, hop! 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 Ottimo lavoro, Nina! Scommetto che adesso hai molto più fiato e resistenza! Ti aspetti, provati! Oh, straordinario! Il suono non era affatto male, ma non so suonare altre note! Tutto questo esercizio per niente è uffa! Ma che cos'è? Che cos'è? Che musica tristissima, ma bellissimissima! Signor Kite! Wow! Sai suonare il trombone? Il nuvola trombone! Puoi insegnare a Nina come si suonano le nabe? Queste note qui! Va bene, cominciamo! Vi lascio in buone mani, ragazze! Alla prossima, signor V... Chi... 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 Chi...